Basta guardare quello che ha fatto per Teleton, basta guardare quello che ha fatto con il faro dove aiutava bambini che non avevano la possibilità e l'opportunità di poter entrare nel mondo del lavoro o altre cose. Lei ha sempre dato di sé per gli altri. Credo che non abbia insegnato solo a me, ha insegnato a tanti e credo che sia una mancanza per noi, per la sua famiglia, per la nostra famiglia e anche per l'Italia perché è una che per l'Italia ha fatto tanto all'epoca in cui era ministro degli esteri ha fatto tanto, come ho detto prima, con Teleton e con il faro che è una fondazione voluta da lei e credo che sia una grandonna che se ne va. Mi dispiace per i miei cugini, per i miei zii, mi dispiace da un punto di vista famiglia e mi dispiace anche per tutto quello che lascia. Però lascia tante belle cose e tante buone cose. Dunque un ricordo direi più che costruttivo e più che positivo e questo è quello che uno può e vuole augurare a chiunque il giorno in cui non è più qua. Grazie. Grazie.